La settima giornata dei campionati dilettantistici ha regalato agli appassionati Irpini la prima vittoria in eccellenza dell'Eclanese di Alessio Martino. I caloresi contro la Palmese grazie ad i gol di Caruso e Dorefice conquistano i primi tre punti della stagione, prendendo una bella boccata d'ossigeno. Nel derby tra Cervinara e Virtus Avellino a prevalere invece l'equilibrio, la gara termina 1-1 con i gol di Torsiello per gli ospiti e Zerillo per i Caudini. Pareggio infine anche per il Solofra, che impatta per 1-1 a Ponte Cagnano contro il Picciola. In classifica il Cervinara resta in zona playoff, mentre Virtus Avellino e Solofra si mantengono stabilmente a centro classifica. Lascia finalmente l'ultima posizione l'Eclanese. In promozione il Sant'Ommaso di Franco Iannuzzi vince contro la Forza e Coraggio e si riprende la vetta della classifica. Inciampa in casa invece il Baiano, che viene battuto a domicilio dal San Martino di Luca Pini. Ne approfittano Grotta e Paolisi, che vincendo rispettivamente contro Carotenuto e Sicanolfi, si portano a pari punti con la formazione mandamentale al secondo posto in classifica. Bel passo avanti anche per la San Severinese, che vincendo per 2-0 in casa del Ponte si porta al ridosso della zona playoff. Pareggi invece nelle gare tra FC Avellino e Dariano e tra Montesacchio e Serino, da registrare la prima storica vittoria in promozione per l'Abellinum di Gianluca della Rocca, vittorioso sul campo dei Lioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione!